Gigi Di Luca, direttore artistico del Festival Etnos, traguardata la 28esima edizione, sabato si arriva a Torre del Greco. È già un grande successo, abbiamo iniziato il 7 settembre con quattro giornate di festival tutto esaurito. Arriviamo a Torre del Greco, sono molto contento che la mia città possa iniziare ad ospitare nuovamente progetti con artisti internazionali. Alle 19 a Palazzo Baronale abbiamo l'arpista Ana Crismas, che è l'unica musicista che fa flamenco con l'arpa. Arriva da Sevilla, è una data in esclusiva. E poi alle 21, presso i Molini Meridionali Mazzoli, questo gruppo che ormai gira il mondo, festival importanti, si chiama Baba Blues. È un gruppo che in questo momento ci fa piacere anche dare molto affetto perché arrivano dal Marocco e dalla Francia. Considerata la situazione sociale tragica del Marocco, in questo momento siamo molto contenti di potergli dare anche il nostro affetto e il nostro calore. e spero il calore del pubblico. Un mix di Ritmi Gnawa, Fusion Rock. È un concerto veramente interessante per tutti. Un programma ricco e folto di appuntamenti, quello immaginato per la 28esima edizione. Come continuerà? Dove si andrà invece domenica? E quando sarà poi il termine ultimo del festival? Domenica 17 saremo a Villa Campolieto, Ercolano, con un resita di Pamela Villoresi, Massimo Di Matteo e da me diretto sul tema di Spartaco. Quindi come dire, anche teatro, un festival che muove musica, teatro, danza. Si continuerà poi dal 21 a Torre Annunziata, con Rachel Andreoli, il 22 e il 23 a San Giorgio a Cremano, con vari artisti, Sciassose, Cuccaitado, Begnaore e poi arriveremo allo spazio dedicato ai giovani, al nostro contesto Etnos Generazioni, che concluderà il festival a San Giorgio a Cremano il 30 settembre ed il 1 di ottobre. Tutto ciò si rende possibile grazie alla collaborazione delle istituzioni con la Bazzarra che la organizza. Quindi va detto che il festival è finanziato dalla Regione Campania, attraverso SCABEC, dal Ministero della Cultura, che riconosce di primissimo livello il festival Etnos, e con il contributo dei comuni di San Giorgio a Cremano, di Porti, Circolano, Torre del Greco e Torre Annunziata, della Banca di Credito Popolare, e la collaborazione anche della Fondazione Ville Vesuviane e della Università Federico II, Dipartimento di Agraria. Tutto questo si rende possibile perché c'è una sinergia, c'è una grande voglia di cultura, di qualità, ma soprattutto di questo festival che porta storie a volte dolorose, legami importanti con i territori, ma soprattutto grande bellezza nei luoghi della bellezza.